Ciao ragazzi, benvenuto in questo nuovo video. Aspetta un attimo, ho una domanda per te. Ma anche tu sei tra quelli che si lamenta per la propria condizione fisica? Sei tra quelli? Insomma ragazzi, per farvela breve, ma chi l'ha detto? Chi l'ha definita? Chi è stato quello che ha definito la condizione fisica perfetta? Secondo me la condizione fisica perfetta non c'è. Questo vuole essere un argomento di provocazione. Noi qui potremmo parlare quanto volete, sì Mario questo, quello, quell'altro, ma nessuno ha definito la condizione fisica perfetta. Quindi dal mio punto di vista tu potresti essere quadrato, rotondo, appunta, in qualsiasi modo ragazzi. La cosa più importante rimane è che tu ti accetti per come sei, sì non è un discorso retorico. Anzi, vuole essere stimolante. Se finisce di essere valido questo tuo argomento, quando cominci a lamentarti e poi non fai nulla. I soliti discorsi, insomma, sì qui magari anche un po' di retorica. I soliti discorsi, Mario ma la cellulite, Mario non riesco a ingrossare i pettorali per l'uomo. Mario le braccia, le spalle, sto male, la schiena, la curva e la postura. Non riesco a camminare, non riesco nemmeno a fare un minuto di corsa, ma tu nello stesso tempo non stai facendo nulla. Allora, questo tuo discorso di stare bene non è più valido. Eccoci qua ragazzi, quindi cosa ne pensi di questo argomento? Ti va di rispondermi sotto? Qual è il tuo punto di vista? Prova a scrivermi appunto, magari ne parliamo insieme e magari posso anche aiutarti. Io ti ringrazio di aver guardato questo video, se ti va di supportare i coach vai qui, vai qui a lasciare un like, magari ti iscrivi anche attivando pure le campanelline per arrivarti altre notifiche. Ti ringrazio ancora, tu sai che cosa devi fare, allenati bene, ciao! Ciao!